Cosa succede dal 23 al 30 settembre? Ci alleniamo tutti insieme per festeggiare la settimana europea dello sport. Ragazzi, voglio vedervi attivi. Occasioni per fare sport, ce ne sono tantissime. E noi, leggendo, vi guideremo nel trovare l'attività più adatta e più vicina a voi. Più sport, più vita, via HTV. Grazie a tutti.